Sì, sei per caso dove posso trovare un autovelox che faccia fototessere? No, mi dispiace, forse è l'università, qua. Ah, ci sono gli autovelox, sì. Non sembra che ci sia, però no, non sono sicura. Ma proprio gli autovelox e il senso bassi a me servono per fare la fototessera, va bene? No, è in metropolitana credo, se parcheggi qua vai giù nella stazione della metropolitana, quella di Missori, e dentro, senza pagare il biglietto, c'è la macchinetta. Ah, ok, va bene, grazie. Scusi, sono di fretta, sai dove posso trovare delle bisce a quattro zampe? Sì, sì. Delle bisce a quattro zampe, no? Sicuro? Salve. Cucce per pesci, cucce per pesci, sono qua in zona. Perché è più che altro il mio, è morto affogato e lo cercavo... No, so. No? Cucce per pesci, non so quali sono. Cucce per... sì, sì, ho capito, però... Perché è morto affogato il mio pesce, quindi è un casino, devo trovare una cuccia. Non so. Non sopposto. Grazie. Prego. Scusa, scusa. Sei per caso dove posso trovare delle strade per macchine? No? Scusi, c'era mica uno che urla... Eh, c'è una persona che urlava per caso a bassa voce? Che l'ho sentito da lì là, allora son corso. Adesso... no. No? Non ho visto nessuno. C'era una che ha urlato a bassa voce? Sì. Sì. Ma adesso adesso no. No? Vabbè, non l'ho sentito da lì in fondo. Sì, ah, cavolo. Non so, però urlava a bassa voce. No, no, no. Beh, o era il telefono, però onestamente non ci ho fatto il cane. Eh, vabbè, provo andando a vedere, perché se c'è bisogno lo aiuto. Va bene. Ok. Se supero i 50 all'ora, me la fanno la fototessera? Sì. Sì? Se supero i 50 all'ora correndo. Proviamo un attimo. Aspetta. No, no. No, non è andata. Proviamo la terza volta. Ok, perché hai fatto i fototessera, hanno detto. Ah. Fototessera? Sì, l'ha fatta. L'ha fatta. Quindi funziona. Sì, sì, sì. Sono troublematine. Sì, sì. Di螃蟹.